buongiorno buongiorno con le stelle rubrica astrologica a cura di monica marillis buongiorno ascoltatori di questa rubrica astrologica buongiorno con le stelle dalla vostra monica marillis oggi è mercoledì 27 ottobre e la luna è in cancro ed è anche in fase calante quindi è un periodo adatto a lasciare andare le cose a buttare via ciò che ormai è pesante da mantenere quindi liberiamoci dei pesi liberiamoci di tutto quello che ci che è un po' una zavorra sostanzialmente e siccome la luna in cancro parla della nostra casa intimità dell'abitazione della famiglia è anche un sono due giorni adatti a chiudere dei cicli che riguardano magari incomprensioni nella famiglia e quindi cerchiamo di sistemare le cose le relazioni o magari semplicemente facciamo un po' di pulizia in casa buttiamo via le cose che ormai non ci servono più le teniamo solo per per una sorta di tendenza all'accumulo come spesso per spesso abbiamo nella prima mattinata la luna ha formato un bel aspetto con urano quindi sicuramente predispone all'attività al fare le cose all'essere attivi e pragmatici e efficaci oltre che efficienti invece nel corso della serata della notte sostanzialmente o della prima mattina di domani la luna si opporrà a plutone ecco lì potrebbero venire fuori un po' di pensieri pesanti appunto invece è importante fare pulizia anche di queste cose cercare di liberarsi da ricordi spiacevoli senso di oppressione di angoscia che invece vengono abbastanza emergono con questa luna opposta a plutone e per farlo ovviamente ognuno ha i suoi metodi c'è chi può ricorrere alla creatività oppure alla musica oppure alla meditazione se se è abituato a ricorrere a delle tecniche delle discipline meditative o magari fare sport anche questo ci può aiutare a liberarci di quella negatività di quelle tossine emotive che si accumulano un po' con questo aspetto intorno a metà giornata quindi più o meno dalle da metà mattinata fino al primo pomeriggio la luna invece forma un bell'aspetto con nettuno un pianeta suo alleato naturale e quindi questo aspetto predispone invece all'intuizione al sogno all'immaginazione quindi anche qua l'attività creativa artistica è sicuramente raccomandata e ovviamente i segni che più recepiscono questo messaggio dai pianeti sono i segni d'acqua quindi lo stesso cancro lo scorpione e i pesci ma anche toro e vergine e quindi sono i segni che sicuramente meglio raccolgono l'invito di questa luna a occuparsi di noi stessi della nostra interiorità della nostra intimità della nostra spiritualità anche e a lavorare su di sé da un certo punto di vista in modo creativo e dall'altro magari proprio per liberarsi da angosce o pensieri piuttosto pesanti quali sono i segni che invece faranno più fatica a fare questo lavoro indubbiamente i capricorni che poi sono molto razionali molto di solito molto lucidi ma non sono tanto in sintonia con lo sprofondare nell'inconscio nelle proprie nei propri sentimenti quindi sproveranno una sorta di disagio riguardo a queste sollecitazioni delle energie astrali ma anche la bilancia e la riete anche la bilancia un segno piuttosto razionale anche se ha una vena artistica molto spiccata quindi soprattutto alle bilance leoni anche si raccomanda di dedicarsi a un'attività creativa artistica però appunto un segno così razionale che fatica a entrare nei meandri della psiche mentre la riete è un segno di impatto di azione insomma anche anche la riete fatica a sprofondare in questo stato un po sognante e di introspezione molto forte ecco prima ho parlato dell'accentuazione di questa atmosfera un po sognante dato da questo aspetto tra la luna e nettuno ma nel frattempo si è anche perfezionato un altro aspetto tra venere e nettuno ne avevamo accennato anche ieri e questo però non è un aspetto positivo è un aspetto conflittuale un quadrato ovvero una distanza di 90 gradi tra i tra i due pianeti e quindi questo invece induce a sognare un po troppo quindi bisognerà fare attenzione soprattutto a seconda delle proprie tendenze personali e in questo caso potrebbero essere sagittari pesci e anche il vergine e gemelli a essere indotti a fantasticare un po troppo a perdere un pochino il contatto con la realtà a essere anche facilmente illusi da persone che potrebbero anche approfittare della nostra buona fede quindi ecco attenzione soprattutto le persone che hanno un pianeta quindi magari il sole intorno ai 20 21 gradi di sagittario pesci vergine gemelli ovvero questo può corrispondere all'incirca alle persone nate tra il 12 e il 14 di dicembre di marzo di settembre e di giugno quindi a occhi aperti ieri abbiamo cominciato a parlare del segno dello scorpione che è il segno di questo periodo del mese di fine ottobre e poi di novembre più o meno dal 23 ottobre al 22 novembre e della combinazione sole ascendente quindi ieri abbiamo parlato del sole in scorpione con l'ascendente ariete e quindi andiamo in ordine dal primo segno dello zodiaco l'ariete il primo perché diciamo che da l'inizio dalla il là alla primavera e una volta anche l'anno si apriva in primavera non iniziava il primo gennaio ma iniziava intorno al 25 marzo quindi esattamente con l'inizio del segno della riete e poi tutti gli altri segni si succedono appunto dopo c'è il toro poi gemelli poi il cancro eccetera e quindi parliamo oggi del dello scorpione ascendente toro che è un po' una contraddizione in termini se vogliamo sono due segni opposti uno di fronte all'altro sul sul cerchio dello zodiaco e rappresentano in effetti delle qualità opposte ma complementari come tutto ciò che è completamente opposto a noi di solito la persona che ha le qualità opposte anche quello di cui magari noi abbiamo bisogno e allora se il toro rappresenta la naturalità la vita semplice spontanea a contatto con la natura ma anche l'importanza della famiglia del clan familiare lo scorpione all'opposto rappresenta e il toro anche attinenza con tutto ciò che è visibile che ha a che fare con lo sguardo con gli occhi con i piaceri della vita ma molto sensuali ma anche molto naturali ebbene lo scorpione ha a che fare con tutto ciò che è nascosto che è sotto la superficie e anche con ciò che si vuole scoprire l'ignoto ciò che non si vede lo scorpione è anche l'abile detective per esempio perché ama indagare ama scoprire ciò che è nascosto ciò che è sotto ma non vuole essere scoperto vuole mantenere i suoi segreti ebbene con un ascendente toro lo scorpione ovviamente bisogna vedere tutte le combinazioni degli altri pianeti di dove sono sistemati i pianeti in un tema natale ovviamente possono cambiare molto possono dare più peso a una cosa o all'altra e quindi sarà uno scorpione un po' anomalo l'ascendente toro le mette insieme degli elementi discordanti ma sicuramente è una combinazione interessante affascinante ricca di contrasti ma anche più forse più aperto del del tipico scorpione apparentemente perlomeno perché è l'ascendente molti mi chiedono ma è vero che man mano che si va avanti nella vita si diventa più si sposa più il proprio ascendente si diventa più il proprio ascendente invece che il proprio sole io dico sì e no nel senso che l'ascendente è la nostra maschera la personalità quindi il personaggio che noi ci costruiamo per incontrare gli altri per affrontare il mondo esterno ma il sole rappresenta sempre il nostro nucleo principale la nostra personalità più profonda ed è anche un po il nostro progetto di vita in un certo senso il sole mentre l'ascendente quindi è come un vestito bello che noi mettiamo per andare incontro agli altri e quindi a forza di mettere una maschera a forza di indossare quel vestito sicuramente si assomiglia sempre di più a quella maschera quel personaggio a quel vestito però noi non siamo il nostro vestito noi siamo il nostro sole sostanzialmente uno scorpione ascendente toro sarà nato all'incirca tra le 18 e le 20 come orario di nascita quello più o meno l'orario quindi una nascita che avviene al tramonto o anche dopo il tramonto parlavamo di questa contraddizione che vive questo personaggio appunto uno scorpione ascendente toro in effetti la personalità presenta un conflitto pronunciato tra il lato attivo e possessivo del toro e quello invece più distruttivo dello scorpione lo scorpione appunto abbiamo detto ieri è tutto luce e ombre tutto o bianco o nero e quando sapete che la simbologia dello scorpione che quando si sente in trappola lo scorpione punge se stesso e preferisce la morte a diciamo una possibile sofferenza quindi c'è una tendenza distruttiva dello scorpione che di solito però è sempre un preludio al ricostruire alla rinascita parlavamo anche della forte capacità di resurrezione degli scorpioni e quindi però un uno scorpione ascendente toro oscilla ancora più fortemente tra questi due poli cioè tra l'oscurità la distruttività invece la vita la costruzione ciò che è chiaro e limpido e quindi intanto può produrre sicuramente una grande testardaggine e poi può essere un personaggio pieno di eccessi di contraddizioni e anche qui ecco invece lo scorpione è passionale ma di solito non è particolarmente geloso mentre il toro sì e quindi potrebbe essere una persona particolarmente gelosa e anche particolarmente incline agli scopi di collera perché reagisce se contrariato con scatti di rabbia oppure con bronci ostinati e sopporta male quando perde quindi questo è difficile per lo per questo personaggio per questo tipo di scorpione con l'ascendente toro ma sicuramente avrà molto a cuore le relazioni soprattutto la relazione a due è una relazione imprescindibile per questo personaggio per questa tipologia di scorpione e quindi la vita di coppia sarà sicuramente una un ambito molto importante per lui o lei e dopo il nostro buongiorno con le stelle continuiamo la nostra giornata con spirito alto e buona energia e vi ricordo che se volete un consulto astrologico mi trovate sul sito www.monicaamarillis.com oppure potete scrivermi all'email info chiocciola monicaamarillis.com